Ciao, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare la configurazione di una scheda Google My Business. Andremo passo passo a configurare diversi aspetti che secondo me sono importanti e su alcuni andremo un pochino più in dettaglio, su altri invece andremo un po' più velocemente. Perché innanzitutto è importante avere una tua scheda Google My Business ben configurata? Se hai un'attività locale è imprescindibile avere una scheda Google My Business. Primo perché ti aiuta a posizionarti su Google Maps. Secondo perché ci sono sempre più funzionalità all'interno per cui tu puoi creare veramente un mini sito. E in alcuni casi ci sono delle attività locali che riescono a ottenere nuovi clienti online anche senza avere un sito ma semplicemente configurando una vetrina su Google My Business. Un altro aspetto molto importante è che Google ha introdotto la possibilità di inserire sul Google My Business anche prodotti e servizi con le loro descrizioni. E quindi tu hai la possibilità di dare un'idea abbastanza definita di quello che è l'insieme dei tuoi prodotti e servizi. Un altro aspetto importante è quello che Google favorisce sempre di più strumenti di sua proprietà. Quindi nel momento in cui tu cerchi un locale, un ristorante, faccio per dire, che ha la sua scheda Google My Business e magari ha anche un sito web o altri profili social. La scheda Google My Business è quella che nel 90% dei casi esce per prima e quindi avere una scheda ben configurata è importantissimo. Ricordiamoci che Google è il motore di ricerca numero uno, quindi essere presenti su Google significa, diciamo, essere presenti online. Un altro beneficio importante è che avrai un riscontro positivo anche dal punto di vista SEO, quindi dell'ottimizzazione, della trovabilità della tua attività su Google. Un'altra cosa... L'importante è che alla fine di questo video tu riesca a configurare la tua scheda Google My Business in autonomia. Chi sono io? Io sono Igor Papo, sono un digital marketing strategist. Di fatto aiuto le aziende ad acquisire nuovi clienti grazie al digitale, a crescere grazie al digitale. Su questo canale parlo di strategie, strumenti, do alcuni consigli ad imprenditori e liberi professionisti per crescere grazie al digitale facendolo anche in autonomia. Quindi questa guida nasce con questo obiettivo qui. Quindi andiamo un pochino più sul pratico a configurare la nostra scheda Google My Business. Allora, innanzitutto la prima cosa che devi fare, partendo da zero, è andare su www.business.google.com. A questo punto ti si aprirà questa scheda qui. La cosa importante prima di andare a configurare la scheda Google My Business è registrare una mail con l'estensione Gmail. Quindi devi avere una Gmail di tua proprietà. Non importa che sia con l'estensione, diciamo, dell'azienda che rappresenti, del locale che rappresenti. Può essere anche una Gmail tua personale su cui tu appoggi la tua scheda Google My Business. Un consiglio mio personale è crea una mail, una Gmail per il tuo locale. E questa Gmail tu la utilizzerai sia per configurare la scheda Google My Business, sia per creare l'account di Google Analytics, che è quello di Google Ads, per fare le campagne su Google. Insomma, cerca di avere una certa coerenza tra varie mail e tra vari account, in modo che tu possa collegare il tutto e il tutto sia perfettamente integrato. Quindi, andiamo un pochino più in dettaglio. Una volta che ti si apre qui, tu quello che fai fondamentalmente è digitare il nome della tua attività. Facciamo, devi controllare prima di questo, faccio un passaggio indietro, che qui tu ti sia logato con la mail su cui vuoi registrare la scheda Google My Business. Nel mio caso, la mail è Cavaliere Divino, perché andremo a registrare Enoteca Cavaliere Divino, un'attività fittizia che ho pensato di registrare, giusto per dare, far vedere, fare una simulazione del percorso. Quindi, mettiamo qui Enoteca Cavaliere Divino. Ok. Nel momento in cui tu registri questa attività per la prima volta, chiaramente non avrai corrispondenze. Se andiamo su Aggiungi l'attività, ok, creiamo il profilo nome dell'attività commerciale. Quindi, Enoteca Divino. Categoria Enoteca. Vediamo, probabilmente ci fa inserire Ristorante, in questo caso. Poi potremo cambiare la categoria tranquillamente, eh, e anche aggiungere altre categorie. Infatti viene specificato in questo caso. Subito sotto, vedete? Ok. Vuoi aggiungere una sede? Certo. Nel momento in cui ho una sede fisica, l'aggiungo. Nel momento in cui non ho una sede, perché Google My Business può essere configurato anche, per esempio, per un professionista che offre servizi in una certa area. Per esempio, io sono un professionista che offre servizi a Roma Nord, faccio per dire, quindi configuro dei quartieri con dei CAP, per cui non avrò una sede precisa su Google Maps, ma avrò un'area di copertura. In questo caso andiamo a fare l'esempio con una sede precisa. ok, indirizzo, allora, via, Corso di Francia, Roma, giusto per. 147, dobbiamo essere chiaramente precisi. Qui mi configura anche il CAP, vedete? E quindi andiamo avanti. In questo caso ti fa delle associazioni con alcune attività che si trovano lì vicino. Tu, chiaramente, se nessuno di queste attività è da tu, perché la prima volta che registri l'attività non hai bisogno di, diciamo, ceccare questo e vai subito su nessuna di queste. Fai consegni o visita a domicilio o in ufficio? Qui, sì o no, insomma, dipende da te. Nel mio caso, no. Ora, a questo punto hai la possibilità di aggiungere dati di contatto. Quindi aggiungi il numero di telefono, ma puoi anche decidere di non farlo. In questo caso, diciamo, per non dover oscurare il numero, non lo inserisco. Aggiungi URL del sito web attuale, se hai un sito. Se non hai un sito, metti, non possiedo un sito web. In questo caso spuntiamo, diciamo, la parte negativa. Andiamo avanti. A questo punto, in alcuni casi, se tu inserisci il numero di telefono, ti fa configurare e verificare l'account anche inviando un SMS direttamente sul numero che hai associato. Se non inserisci il numero, ti fanno inserire qui il nome del contatto e l'indirizzo, ti inviano una cartolina che ci mette circa 10 giorni ad arrivare con un codice Google che tu dopo, successivamente, andrai a inserire sull'account per far sì che l'account sia verificato. E a questo punto, chiaramente, tu sei operativo e visibile al 100%. Nome del contatto, metto Giacomo Rossi, primo nome eventualmente. E, ok, in questo caso vai su spedisci. Vediamo se ci sono altre opzioni di verifica in questo caso. Allora, cartolina, altre opzioni non me le dà perché chiaramente non ho inserito il numero di telefono. Vabbè, posso decidere, insomma, anche di verificarlo più tardi. Vi faccio vedere dove. Adesso dobbiamo aggiungere orari di apertura, il che è molto importante. Quindi mettiamo lunedì aperto e quindi mettiamo, allora, enoteca, magari facciamo apertura 11. 12. 20. Ok. Anche qui, 11. 20. Posso anche decidere, magari, di lasciare una settimana di chiusura e un giorno di chiusura perché magari alcune enoteche possono essere aperte domenica e sabato perché lavorano magari di più. Dire, ok, magari io mercoledì lo chiudo. Giovedì, riapro. Venerdì, riapro. Chiaramente gli orari giornalieri non devono essere tutti uguali, hai la possibilità di personalizzare come preferisci. Domenica. Ok. Puoi anche decidere di configurare le pause pranzo, quindi puoi fare, non so, dalle 8 fino all'1, dalle 3 fino a 18, faccio per dire. Ok, vado avanti. Oh, questa è una cosa molto importante che è stata introdotta non tantissimo tempo fa. Di fatto, Google T permette di farti inviare i messaggi direttamente dalla scheda Google My Business, il che può essere molto interessante perché permette, diciamo, un contatto diretto e veloce a chi sta consultando la tua scheda. Adesso, modalità di consumazione perché chiaramente in questo caso abbiamo inserito categoria ristorante e ogni categoria poi ha delle sottoconfigurazioni. In questo caso, consumazione sul posto, sì, asporto, sì, metti caso che noi abbiamo, non so, un'enoteca che ha anche un servizio al tagliere con degustazioni vini, faccio per dire. Ok, ritiro all'esterno, mettiamo no, mettiamo questo no. Se hai la possibilità di consegno lo fai, altrimenti no. Il ristorante consegna gli ordini davanti alla porta del cliente, no, questo diciamo vanno un pochino di pari passo. Adesso, andiamo avanti. Ok, ah, questa è un'altra cosa molto importante. Queste righe devono essere sfruttate molto bene perché, diciamo, in parte sono alcune parole chiave che tu andrai a inserire in questa descrizione, andranno a posizionare meglio l'attività su Google e anche ai fini SEO. Quindi, mettiamo, enoteca barra ristorante, specializzata nella vendita di vini, non so, campani. La prima cosa mi veniva da mente, ok? Ok, mettiamo, offriamo la possibilità di degustazione di vini, formaggi e salumi selezionati direttamente presso il locale. Ora, questa chiaramente è una mini descrizione, va sviluppata sulla base delle tue caratteristiche. Aggiungi foto del tuo menu. Ah, in questo caso, quindi, puoi aggiungere e caricare delle foto tue del menu, in modo che hai già la possibilità di mostrare i servizi e i prodotti, in questo caso specifico, che offri. Quindi, ti consiglio di caricare anche molte foto del, diciamo, del tuo locale, quindi nei momenti in cui vengono consumati magari i pasti, quindi cerca di offrire più informazioni che puoi, perché in questo modo Google vedrà che tu, innanzitutto, sia un'attività attendibile, le persone avendo più materiale a disposizione per giudicare se magari il tuo locale, il tuo ristorante o, insomma, anche la tua azienda che offre mai dei servizi possa fare al caso suo e, diciamo, ho riscontrato anche un altro aspetto positivo che più foto, diciamo, attendibili, reali, carichi, più visibilità acquisisci anche nella parte di Google Discovery. Google Discovery, diciamo, una sezione di Google dove le persone ti scoprono cercando una categoria di attività che anche tu stesso rappresenti, quindi magari cercando ristoranti Roma Nord, ti escono delle foto che tu selezioni, che tu carichi sulla piattaforma e questo ti aiuta a posizionarti meglio, questo, diciamo, in modo molto ortofrutticolo e sintetico, perché non voglio complicare le cose in questo video. Allora, quindi aggiungiamo una foto, vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche foto, qualche foto, qualche foto, e vediamo, vediamo, non ho foto recenti che posso caricare, o, anzi, guarda, ho la foto di un cliente che posso caricare, ecco qua, giusto per avere un file e farvi vedere come funziona, questo, ok, che può essere anche abbastanza coerente con il profilo. Allora, andiamo avanti, anche qui aggiungi foto dei tuoi piatti, eccetera, eccetera, anche qui ricarichiamo magari la foto di prima, giusto per caricare qualcosa, carichiamo, anzi, carichiamo questa, va che è sempre un, la foto che ho preparato per un cliente, ok, andiamo avanti, qui ti danno la possibilità praticamente di riscattare un credito pubblicitario per cominciare a fare Google Ads, eccetera, eccetera, in questo caso ignoriamo, ok, le modifiche saranno visibili dopo la verifica, fondamentalmente dice che la scheda sarà visibile dopo che hai verificato l'attività, però intanto possiamo andare dentro, ok, a questo punto se andiamo sul profilo dell'attività, ok, allora, innanzitutto qui vediamo alcune cose che ho creato, vediamo se questa è quella ultima che ho creato, lo vediamo subito dalle foto, ok, questa è l'ultima che ho creato, e poi quell'altra l'andrò a cancellare, insomma l'ho creato semplicemente per fare dei test, ora quindi, andando sul menu e su profilo dell'attività, semplicemente tu entri dentro alla tua scheda, in questo momento la scheda non è pubblica, perché dobbiamo fare prima la verifica, se hai la possibilità di fare la verifica con il telefono in modo immediato, questo aggiornamento è praticamente in real time, se invece devi fare la verifica tramite l'invio della cartolina, passano circa 10 giorni, a questo punto comunque tu, mentre magari la cartolina sta arrivando, puoi fare tutta una serie di attività per migliorare la tua scheda, andiamo a vedere le diverse sezioni, allora innanzitutto qui ti avvisa subito che devi fare la verifica e richiesta la verifica, quindi tu nel momento in cui, se non hai fatto la verifica subito, vai qui dentro, verifichi ora, ti fa inviare la cartolina e confermi fondamentalmente, però nel frattempo come dicevo prima, puoi fare anche altre configurazioni, pure se tu di fatto, spostiamo qui questa, pure se tu di fatto ancora non sei online, allora, la prima cosa che puoi fare è andare a vedere la sezione post, la sezione post fondamentalmente serve come una sorta di funzionalità social media, consentimi il termine, anche se è un po' forzato, quindi tu qui puoi creare il tuo primo post, che può essere l'aggiornamento per covid, e quindi di fatto puoi mettere, non so, delle regole particolari per il tuo locale, non so, tipo la consumazione sul posto, solo con mascherina faccio per dire, offerte, quindi anche qui puoi settare un'offerta, titolo dell'offerta, quindi non so, a pericena a 20 euro con tre vini selezionati, data inizio e data fine dell'offerta, anche qui, e la pubblichi, e quindi verrà visualizzata sulla tua scheda, subito, diciamo sotto quelle che sono le informazioni fondamentali, del numero di telefono, l'indirizzo, eccetera, eccetera, poi novità, per esempio anche qui puoi inserire una novità, non so, una nuova linea di vini in questo caso specifico che hai inserito, se parliamo di altra, diciamo anche di un'agenzia faccio per dire, no, di un'agenzia immobiliare, tu puoi tranquillamente inserire, non so, novità, offerta, valutazione gratuita e sopralluogo del tuo immobile, faccio per dire, oppure vendita del tuo immobile a tariffa fissa di 300 euro, cioè tutte cose che ti servono nella comunicazione, oppure l'evento, per esempio, se tu hai, non so, sempre su questo caso specifico, degustazione dei vini con sommelier, non so, chicco d'oliva, non so se voi ricordate chicco d'oliva, allora in questo caso te lo vai a inserire qui e ti vai a creare l'evento, l'evento sarà diciamo pubblicizzato o meglio sarà visibile, non pubblicizzato in questo caso perché non è che ci hai speso diciamo del budget pubblicitario, però nel momento in cui le persone trovano degli eventi, cercano degli eventi in quella zona specifica, quindi non so, aperitivo, Corso Francia, Roma, ma questo evento sarà più probabile che esca fuori se tu hai creato prima l'evento su Google My Business, ok? Quindi, facciamo così, creiamo proprio un evento, giusto per fare un esempio, anche qui, vediamo, vediamo, possiamo mettere una fotaccia, la posso mettere? facciamo finta che c'è un evento di degustazione vini e ci sono bocconcini alle melanzane, ok, quindi, allora facciamo, certo che degustazione vini con la fotografia delle melanzane e dei fritti non si può vedere, degustazione, vini e fritti, mamma mia, se mi sente un sommelier penso che si sente male, però giusto per darti un'idea, chiaramente, poi, vediamo, mettiamo che sia sabato, ok, aggiungo l'orario, quindi l'ora inizio, 18, 21, altri dettagli, ma i dettagli dell'evento, se vuoi avere una cita tipo prenota, qui puoi inserire un link, magari un link può essere anche a una tua sezione, se tu hai un sito magari, per farti, per far prenotare un posto, altrimenti, in questo caso, la prenota, vediamo un attimino, iscriviti, anche qui puoi iscriverti all'evento, e magari se tu stai facendo la raccolta dei lead, puoi fare iscrivere l'evento, le persone qui, vabbè, detto ciò, in questo caso, non metto nessuna cita, e pubblico, ok, quindi vedete, avete creato in questo caso, un evento, che avrà la sua visibilità, sui motori di ricerca, chiaramente qui dice, che prima devo verificare l'attività, per far sì che questo possa essere visibile, stesso discorso, per le offerte, novità, ok, stesso lavoro che abbiamo fatto per eventi, adesso andiamo nella sezione, informazioni, allora, informazioni, praticamente, ti riporta, quelle cose che noi abbiamo compilato prima, che sono informazioni, diciamo, essenziali, quindi, l'indirizzo, area di coperta dal servizio, in questo caso, per esempio, se non abbiamo una sede fisica, oppure, anche se abbiamo una sede fisica, magari facciamo anche consegna a domicilio, in questo caso, possiamo coprire, e inserire un'area, e quindi, non so, diciamo, ponte, mil, il bio, eccolo, che non me lo dà, vabbè, noi mettiamo un trastevere, e non so, Labbaro, e, mettiamo, Grotta Rossa, sono tutte aree, diciamo, di Roma Nord, abbastanza vicine, vabbè, lasciamo queste qua, applico, ok, orari speciali, qui la possibilità di aggiungere il numero di telefono, aggiungere il sito web, posso già configurare un menu, qui dentro, ok, quindi, in questo caso specifico, strutturare un menu, in modo dettagliato, queste voci che voi vedete, tipo, ordinazione di cibo, menu, chiaramente, sono specifiche per la categoria, nel momento in cui, per esempio, io, quando mi sono trovato a configurare, pure se non ho un'attività locale, la scheda Google My Business, diciamo, della mia attività, della web agency, chiaramente, sono uscite altre categorie, quindi, i servizi che offri, i prodotti che offri, quindi, con un taglio molto più da agenzia, da azienda corporate, passatemi il termine, in questo caso, Google, va bene, chiaramente, a personalizzare alcune sezioni, per far sì che, ogni scheda Google My Business, offra, il meglio, per quella categoria specifica, di utente, che la sta compilando, ora, in questo caso, qui, puoi aggiungere, dei link, per fare l'ordine, per fare l'ordinazione online, quindi, integrando, direttamente, la scheda Google My Business, con la tua piattaforma, che poi, ti consente di fare, questo lavoro qui, sulla parte, delle statistiche, tu, troverai, praticamente, i dati, che riguardano, la tua scheda Google My Business, quindi, quante persone, hanno visitato, la tua scheda, quante persone, hanno visualizzato, le tue foto, quante persone, hanno scoperto, la tua attività, nella sezione Maps, nella sezione Discovery, potrai scoprire, quante persone, hanno cliccato, sul numero di telefono, e, questo ti serve, chiaramente, poi, per migliorare, la tua scheda, man mano, no? Quindi, inizialmente, magari, avrai dei risultati, un pochino più bassi, poi, piano piano, vedendo, analizzando i dati, riesci a fare quei miglioramenti, che poi, ti portano, un risultato migliore, o, poi, un'altra cosa, importante, è questa qui, delle recensioni, le recensioni, sono fondamentali, per Google, per la scheda Google My Business, ma, per Google, in generale, per, diciamo, creare quell'area di trust, per gli utenti, chiaramente, che cercano l'attività, e la categoria di prodotto, che tu vendi, o del servizio, che tu vendi, ma, anche per Google, che ha dei segnali positivi, per raccomandare, posizionare meglio, la tua attività, rispetto a quella, di un altro, quindi, questa parte, è estremamente importante, e un consiglio, che mi sento di dare, è non aspettare, che, siano gli utenti, a lasciarti la recensione, cioè, richiedigliela, tu, direttamente, quindi, giragli il link, della scheda Google My Business, e, richiedi la recensione, in questo modo, tu, riuscirai, sin da subito, a popolare, la tua scheda Google My Business, di recensioni, e quello, chiaramente, avrà un impatto, super positivo, sulla tua, capacità, di attirare, i clienti, già, dalla scheda, di Google My Business, penso, in questo video, avrò ripetuto, Google My Business, almeno 100, 150 volte, comunque, andiamo avanti, ho, anche qui, la configurazione, per la chat, allora, questa, è la sezione, ah, ecco, prima, prima di configurare la chat, mi fa fare la verifica, chiaramente, avete visto, che noi, abbiamo, praticamente, dato la possibilità, di messaggiarci, direttamente, ecco, questo, dipende da te, puoi dare la possibilità, di farlo, oppure no, io consiglio di farlo, semplicemente, dopo, ti fa configurare, questa chat, attualmente, diciamo, che c'è, un, una sezione, anche all'interno, dell'app, di Google My Business, dove ti fa visualizzare, i messaggi, ok, che i clienti, di fatto, ti inviano, so, che prossimamente, dovrebbero, togliere l'app, e quindi, farti gestire, tutto, direttamente, da Google Maps, però, vedremo, quale sarà, la nuova configurazione, di questo aspetto, qui, poi, si va, nella sezione, fotografie, ah, anche qui, è molto importante, come ti ho già detto, prima, caricare le fotografie, e caricare foto, attendibili, e coerenti, con la categoria, che viene indicata, qui, chiaramente, quindi, tu carichi il logo, carichi la copertina, se hai un video, per esempio, del locale, oppure, non so, del tuo ufficio, lo carichi qui dentro, interni, vabbè, in questo caso, mostra l'aspetto, lo stile della tua attività, con foto degli interni, eccetera, eccetera, non saltare, diciamo, queste, queste, queste parti qui, qui, ti dà la panoramica, e poi, praticamente, ti fa andare, in dettaglio, a vedere tutte queste cose, e, anche qui, ti dice di, che le fotografie, saranno fondamentalmente, visibili, soltanto, quando verificherai l'attività, vabbè, però, è normale, però, tu intanto, le puoi caricare, una volta, che hai caricato, configurato tutto l'account, aspetti quei dieci giorni, se fai la verifica, tramite la cartolina, oppure, se fai una verifica immediata, sarà visibile subito, però, tu aspetti quei dieci giorni, però, intanto, è tutto pronto, nel momento, in cui, ti danno la verifica, bam, riesci ad essere visibile, già con un account, bello configurato, poi, prenotazioni, in questo caso, specifico, puoi aggiungere, anche qui, un pulsante, delle prenotazioni, vabbè, anche qua, ti fa verificare, prima, l'attività, però, è molto, molto, molto semplice, ok, quindi, fai, aggiungi un pulsante, per prenotare, e quindi, le persone potranno, configurare, puoi configurare, la possibilità, di prenotare, direttamente, dalla scheda, Google My Business, ho, un'altra cosa, interessante, è questa qua, del sito web, perché, se tu non hai un sito web, io, onestamente, non l'ho utilizzata, moltissimo, però, mi rendo conto, che qualcuno, può utilizzarlo, perché, se non dovessi avere, un sito web, loro, ti danno, la possibilità, di configurare, una sorta, di mini vetrina, eh, già dalla, diciamo, dalla scheda Google My Business, e, per, mostrare, caratteristiche, della tua attività, insomma, scrivere quello che ci vuoi scrivere, messaggi, diciamo, persuasivi, e tutto il resto, questo, ci deve, far riflettere, perché, perché, vedete che, Google cerca, sempre più, di attirare a sé, e centralizzare, il marketing, quindi, non possiamo, fare a meno, dei servizi, e strumenti, di Google, per poter, essere visibili, sul suo motore, di ricerca, io, personalmente, preferisco, gestire, il sito, separatamente, e poi, configurarlo, e collegarlo, alla scheda Google My Business, perché, magari, lo faccio con WordPress, ho molto, molte più possibilità, di personalizzazione, ed è, tuttora, molto più, efficace, ed efficiente, e, quindi, però, se tu dovessi, voler creare, un sito, direttamente, diciamo, qui, lo puoi, fare, allora, ok, poi, questa, è la sezione, degli utenti, che, diciamo, possono accedere, alla scheda Google My Business, qui, ti, fa la personalizzare, la Gmail, aggiungere una nuova attività, aggiungere una nuova attività, che significa, che se tu magari hai più sedi, puoi gestire tutto, diciamo, da una, da un multigruppo, di scheda Google My Business, e aggiungere diverse sedi che hai, e creare l'annuncio, quindi, di qui, praticamente, ti connette direttamente, con l'account di Google Ads, quindi, puoi creare un annuncio, già direttamente, da qui, motivo per cui, all'inizio del video, ho detto che, il tutto deve essere, molto integrato, quindi, con la stessa Gmail, tu vai a creare, la scheda Google My Business, la, Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, in modo che, sia tutto, perfettamente comunicante, poi, attività, che mi ha, rimandato qui, alla fine, praticamente, di questa sezione, che cosa abbiamo? Abbiamo, le varie possibilità, di impostazione, collegamento degli annunci, assistenza, e impostazioni, però, fondamentalmente, le cose importanti, da fare, in questo caso specifico, per esempio, caso ristorante, sono informazioni, mi raccomando, questa parte qui, devi essere molto preciso, e molto accurato, anche nella descrizione, diciamo, dell'attività, sia per quanto riguarda, opzioni di servizi offerto, sia per quanto riguarda, per esempio, le aree coperte, eccetera, in questo caso, noi, ripeto, abbiamo menu, ordinazione cibo, in altri casi, se tu hai un'attività, sempre magari locale, ma di tipo diverso, tipo, non so, il parrucchiere, ti usciranno altre possibilità, quindi magari avrai prodotti e servizi, dove tu, non so, tra i prodotti potrai aggiungere, o tra i servizi potrai aggiungere, non so, taglio, piega, colore, cioè, c'era finito qui le opzioni, per quanto riguarda il parrucchiere, e, invece in questo caso, chiaramente c'hai il menu, l'ordinazione del cibo, quindi devi perdere tempo qui dentro, quindi sul menu, sui, sulle aree coperte, sulle fotografie, soprattutto nel food, visto che stiamo adesso affrontando questo caso specifico, le fotografie sono fondamentali, quindi, questo vale per Google My Business, ma anche è valido in generale, quindi foto super belle, foto coerenti, foto dei prodotti, interni, esterni, quindi, un'altra cosa importante, magari è, questa è una strategia, un trucchetto successivo, ti consiglio a, di invitare, persone che visitano, il tuo locale, in questo caso, di fare le fotografie, e di caricarle loro, localizzando, diciamo, l'attività, ok, quindi magari, anche di lasciarti una recensione, caricando la foto, nella recensione, perché le foto, diciamo, caricate dal proprietario, sono, diciamo, necessarie, sono utili, però sono ancora più utili, e fanno aumentare la credibilità del locale, le foto caricate, caricate dagli utenti, dai consumatori, no, che, soprattutto, se si tratta poi, di una recensione fornita con fotografia, questo, questo è, in assoluto, la cosa che, ti posiziona meglio di, tutte, agli occhi di Google, ma anche agli occhi di potenziali clienti nuovi, ok, e, bene, diciamo che, io chiuderei qui, la panoramica, chiaramente, ogni categoria, di, locale, che registri, ha delle peculiarità, però, la struttura di massima, è questa qui, ti ho detto le accortezze, che devi, avere, insomma, nell'impostazione di queste, di queste parti qua, spero che, diciamo, tu abbia avuto una panoramica, un po' a 360 gradi, non volevo troppo complicare le cose, volevo andare abbastanza, sul, sul pratico, e sul concreto, senza, magari, andare a, nel dettaglio della cosa, perché magari una prima configurazione, tu la fai, a 360 gradi, vedi le statistiche, cerchi di configurare, in maniera attenta, chiaramente, ogni sezione, vedi le statistiche, vedi dove puoi migliorare, quali sono le parti, che man mano, puoi migliorare, e puoi aggiornare, e, bene, se tu dovessi aver, bisogno di qualche altra, delucidazione, su questo aspetto, sarò contento, di risponderti, quindi, magari, lascia un commento, direttamente sotto questo video, e, magari, quella tua domanda, specifica, io cercherò, di risponderti, e sarò molto contento, di risponderti, detto questo, ti ricordo, se questo video, ti è piaciuto, e magari, vuoi avere altri video, di questo tipo, anche qui, magari, lasciami un commento, e cercherò, di magari, di realizzare, una nuova guida, e, soprattutto, se vuoi seguirmi, iscriviti al canale, il canale YouTube, quindi, schiacciando qui, qui sotto, come fanno quelli bravi, che fanno, schiaccia qui sotto, subscribe, e, dopodiché, canali Instagram, igorpapo.it, canale Telegram, igorpapo, che vita da marketer, lì, invece, troverai, altri, risorse, materiale, utile, magari, ecco, anche, per, altre, per una strategia, di digital marketing, diciamo, un po', più a 360 gradi, bene, sono stato contento, di averti qui, grazie per l'attenzione, e noi ci sentiamo, alla prossima, ciao!